La scuola diventa digitale, avvia un progetto di sperimentazione che consiste nell'utilizzo di tablet per completare la didattica. Oggi la presentazione nella scuola primaria Leon Battista Alberti. La sperimentazione consiste nel fatto dell'utilizzo del tablet all'interno di una classe in maniera sperimentale e testimonia il fatto di un lavoro lungo ma fruttuoso che ha messo a norma tutte le scuole con le infrastrutture digitali per un investimento che è stato di circa 280 mila euro. Registro elettronica e wifi in tutte le scuole, lavagne elettroniche, videoproiettori interattivi in 131 classi, 14 laboratori, un auditorium, copertura wireless per futura adozione di tablet, 17 classi, 3 scuole. Questi i numeri del progetto e se i bimbi sono già digitalizzati la scuola dovrà insegnare un utilizzo più consapevole delle nuove tecnologie e quello che aumenterà sicuramente sarà l'interazione tra alunni e insegnanti. L'iPad deve essere uno strumento che ci permette di integrare le nostre lezioni tradizionali dando quella motivazione in più anche ai ragazzi per seguire le lezioni meglio. La scuola diventa digitale e i ragazzini di oggi però lo sono già digitali? Sì, sono digitalizzati. Noi dobbiamo educarli a diventare dei buoni nativi digitali.